E' stata presentata questa mattina all'aperto sotto il Palazzo Comunale la campagna di informazione e sensibilizzazione pensata dall'amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio per far riflettere tutti, non soltanto i ragazzi, sull'importanza che rivestono il rispetto delle regole e delle misure anticontaggio anche nelle situazioni di svago. A illustrarne le specificità e i contenuti hanno provveduto i due assessori competenti, Luca Praetano e Paola Felice, accompagnati dai ragazzi dell'Unitalsi coinvolti attivamente nel progetto e anche dal presidente della Commissione Politiche Sociali Rosanna Coccagno e dal presidente della Commissione Attività Produttive Margherita Gravina. Noi dobbiamo fare la nostra, dobbiamo cercare di far capire che il periodo non è ancora finito, il lockdown c'è stato, tutti vogliamo tornare alla normalità ma dobbiamo arrivarci pian piano, gradualmente, per cui il messaggio è sì controlli ma anche opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti, verso i giovani ma anche il resto della cittadinanza. Cercheremo di sensibilizzare ancora di più la popolazione attraverso anche dei gadget come questa maglietta, simpatici, attraverso delle spille nella speranza che i ragazzi, ma non solo, possano capire fino in fondo qual è davvero l'emergenza e nel rispetto più totale delle regole. Saremo in due punti, uno per il corso e un altro a Piazza della Maddalena, in ovviamente diverse squadre. La campagna che verrà condotta principalmente nei luoghi e nelle strade frequentate dai giovani nel fine settimana è promossa dagli assessorati delle politiche sociali e da quello delle attività produttive.